Come brilla la tua cucina! Però adesso c'è questo sporco bruciato. Mi darà un bel gaffare. Ma c'è una novità! Mastro Lindo Super Crema, speciale per smalto e acciaio. È la forza che non graffia, smalto e acciaio fa brillare. Mastro Lindo Super Crema comincia ad agire prima di strofinare. Fantastico! Porta via tutto! Mi ci vedo! E non graffia! E la vasca? Brilla! Che pulito! E che profumo di limone! Mastro Lindo e Mastro Lindo Super Crema? Sono un duo super brillante! Grazie a tutti!